ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare maringina cos srl ultimo aggiornamento 4 novembre 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze ingredienti appoggiare l'integrazione di maringina è indicata nei casi di aumentare l'integrazione dell'integrazione di maringina è un integratore appartenente alla categoria degli integratori antiossidanti è commercializzato in italia dall'azienda cos srl informazioni commerciali titolare cos srl concessionario cos srl categoria di appartenenza integratori antiossidanti forma farmaceutica compressa confezioni maringina 60 compresse 30 g indicazioni l'integrazione di maringina è indicata nei casi di aumentato fa bisogno di tale nutriente modalità d'uso da 1 a 3 compresse al giorno preferibilmente ai pasti descrizione e caratteristiche l'anaringina o naringoside è un flavonoide naturalmente presente in diversi frutti del genere citrus in particolare nel pompelmo al quale conferisce il caratteristico sapore amaro avvertenze se si stanno assumendo farmaci antico a volanti anti aggreganti piastrinici o i pari noi di consultare il medico prima di usare il prodotto per l'uso del prodotto durante la gravidanza si consiglia di sentire il parere del medico il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata seguendo uno stile di vita sano non eccedere le dosi giornaliere raccomandate tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni validità 36 mesi ingredienti maringina da pompelmo citrus maxima osbeck frutto agente di carica cellulosa micro cristallina amido di mais pre gelatinizzato anti agglomeranti talco magnesio stiarato vegetale silice colloidale apporto nutrienti maringina da pompelmo citrus maxima osbeck frutto 200 mg fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato grazie per avermi seguito